Un altro passo in direzione Pistoia Blues è stato fatto a Chianti Banca, nella sede Largo Treviso a Pistoia, dove è stata presentata la rinnovata collaborazione tra l'evento musicale cittadino e la banca che opera sul territorio. Un rapporto che ormai va avanti negli anni e che si consolida anche per la prossima edizione 2024, sempre più alle porte e ricca di eventi dal 4 al 13 luglio. Siamo orgogliosi di questo, sono anni che questa collaborazione va avanti, per noi è molto importante perché tutte quelle che sono le manifestazioni che valorizzano il territorio e pensiamo che questo lo sia non solo per la città di Pistoia ma direi anche per tutta la Toscana, sono occasioni, sono eccellenze per il territorio, sono occasioni per valorizzare Pistoia, è un territorio a cui teniamo in particolar modo per cui per noi, ripeto, è un motivo di orgoglio essere nuovamente a fianco di questa manifestazione e di poter dare il nostro contributo. Ringrazio ovviamente la Chianti Banca per questa partnership e ci aspettiamo appunto di iniziare nei prossimi giorni appunto i primi montaggi del Festival, che quest'anno appunto vedrà diversi artisti, abbiamo già un sold out che è quello di Antonello Venditti e ci auguriamo appunto e presumiamo appunto di avere un'edizione molto frequentata con un ottimo risultato appunto sia di pubblico che di riscontro al proprio generale.